Benvenuti a questo nuovo video. In questo nuovo video parliamo di un fucile storico, americano, il Garand M1. Vi mostrerò come disassemblarlo per la pulizia dopo una sezione di tiro. Allora, prima di tutto, per iniziare, ci assicuriamo che sia a scarico. Quindi armiamo l'azione, verifichiamo che sia vuota, lo richiudiamo. Mi raccomando, non scarichiamo il grilletto, per disassemblarlo bisogna lasciarlo con il grilletto in tensione. Adesso rimuovo la cinghia per facilitare le operazioni. Ok. Una volta giunti a questo punto, bisogna togliere l'azione. Per rimuovere l'azione bisogna alzare tutta la guardia del grilletto. Per farlo bisogna portarla leggermente indietro e alzarla. Noterete che qua c'è un foro. Questo foro ci aiuta per fare una leva. Quindi ci possiamo aiutare con un cacciavitro, un cacciaspina sufficientemente grosso. Basterà infilarlo all'interno. Lo si infila all'interno. Con la mano portiamo indietro e alziamo. Così da far sfilare la guardia. Dopodiché si tira in su e lo si può sfilare. Questo è il gruppo di scatto pronto per essere pulito, sto frenato e oliato. Bisogna rimuovere, in conseguenza, da proseguire, la calciatura. Per rimuovere la calciatura è molto semplice. Basta fare un po' di leva e viene via. E si sfila. La mettiamo da parte che tanto non ci serve. A questo punto la parte più, tra virgolette, complicata. Bisogna rimuovere la molla con il relativo braccetto che fa diverse funzioni. Mantiene in tensione il pistone e mantiene praticamente in tensione anche il braccio che fa da elevatore dei colpi. Vedete come è articolata la leva? Questa mantiene in tensione questa parte qui. Infatti, che poi ci aiuteremo anche per smontarla, tirandola vedremo che fa tutto parte di questa molla, che è la stessa che mantiene anche in tensione la leva di armamento. Quindi, per rimuoverla, sempre con la nostra cacciaspina per aiutarci. Alziamo, come ho fatto vedere prima, l'elevatore. Andiamo a mettere il cacciaspina qui in mezzo, in modo da poter svincolare questo. Come prima la teniamo, dobbiamo mantenere la molla in tensione. Con l'altro dito schiacciamo e facciamo uscire quel piolo dalle guide. Vedete che non c'è più. Fate attenzione perché la molla ovviamente è sotto forza. Quindi, la rimossa con un attimo di cautela. Ok, una volta che è scaricata la sua forza, può essere rimossa. E la mettiamo da parte. Ora, proseguiamo ad andare a ritolto la leva di armamento. La leva di armamento ha un punto specifico per essere rimossa. Vedete questo incavo qua, più largo, sarà il punto dove la leva verrà via. Quindi lo portiamo indietro, la teniamo premuta. Quando arriverà nell'incavo, vedete che si svincola. Portiamo avanti, in modo a farla uscire da qui. E la sfidiamo. E anche la leva di armamento, con tutto il suo pistone, è rimosso. Questa è la faccia del pistone, che andrà pulita. Idem, la prima parte del tubo la troverete sporca, dei residui carbonosi, dello sparo. A questo punto si può rimuovere l'otturatore vero e proprio. Portandolo avanti, lo si prenderà dall'aletta che fuoriesce, senza sforzo, che è un pezzo che non va sforzato, viene via. Già in questa condizione possiamo pulire la maggior parte dei pezzi, che sono soggetti alla normale usura e sporco dello sparo. Se vogliamo proseguire con lo smontaggio, andremo a smontare il recupero gas. Per rimuovere il recupero gas va tolta questa vite, che a volte è molto dura. Si può utilizzare dei disossidanti, un po' d'olio, per andarla a rimuovere. Dopodiché si svita normalmente, con una normalissima vite, in senso anti-orario, quindi non ha passi sinistrosi o quant'altro. La si svita. E la si mette da parte. Blocco di recupero gas. Anche questa, la prima parte che fa da fermo, si svita. E si rimuove. Chiesa se volete dargli una pulita leggera, un po' di olio, giusto per evitare che si grippi col calore sul filetto, ma non è una parte soggetta allo sporco, a differenza della testa della vite, che invece lo è. Una volta fatto questo, dobbiamo smontare questa parte qui, che è il vero e proprio recupero di gas, dove c'è il foro di presa gas. A volte risulta inchiodata, quindi vi dovete aiutare con un martello di gomma, per non rovinarlo, in modo da portarlo in fuori. In questo caso è molto morbida, lo si fa tranquillamente a mano, ora si sfila proprio. Questo infatti è il tubo che è soggetto allo sporco maggiore, infatti qua viene prelevato il gas a questa altezza, e qui c'è la prima camera, la prima parte di espansione. Vedete il foro di presa gas che si trova proprio subito dopo alla parte filettata che abbiamo smontato. Anche il guardiamano, che dove sfogano i gas una volta che sono usciti, va pulito, quindi lo si sfila frontalmente. Gli si dà una pulita e si è a posto. Noi ci troviamo con il gas sostanzialmente che è un tubo di ferro e i due leveraggi per alzare i colpi. Questo diciamo è lo smontaggio già più profondo per un uso normale, se non c'è bisogno di fare manutenzione straordinaria, andare a cambiare qualche leva che si è rotta per l'alzata dei colpi, è più che sufficiente, in quanto potete raggiungere qualunque parte che deve essere pulita dal recupero gas, la testa della vite che tiene il fermo, lo stesso otturatore, ecco la sua faccia, classica costruzione, ormai conosciutissima. Può essere tutto pulito con facilità, con un pennello si andrà a rimuovere lo sporco con uno straccio, molto semplicemente. Ricordiamoci che alla fine è un'arma militare, quindi va bene che sia pulita perché va bene, ma non ha bisogno di pulizie particolari da arma di altissima precisione meccanica, è comunque un'arma che è nata per essere usata in conflitto, quindi in diverse condizioni, sia climatiche che di territorio, quindi dalla polvere, al deserto, al fango, a quello che uno può trovare. Una volta puliti i pezzi si procede esattamente nel modo contrario con il quale si sono stati disassemblati, quindi si riassembla l'arma paro paro a come si è assemblata, quindi. Ho più mano, si va a rinfilare. Presa di gas. E la si infila. Ci sono delle guide quindi non potete sbagliare nella posizione, non può essere infilata storta. Come vedete, una sola posizione permette l'aggancio, quindi problemi non ce ne sono. Prendiamo fermo. A volte, come vedete, non è che il passo sia perfetto, quindi non si stringe nel punto più vicino. Tanto è la vite vera e propria che poi fa da fermo, se guardate lo spessore, va più giù. Con il cacciavite ci aiutiamo. Facciamo prima e facciamo maggior forza. E ok. E la vite è a posto. A questo punto pulito, sistemato, rinfiliamo l'otturatore. Come è stato rimosso, va rimesso, quindi senza fare sforzi. A questo punto pulito, sistemato, rinfiliamo l'otturatore, va rimesso, 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 va rimesso. A questo punto pulito, sistemato, va rimesso, va rimesso, va rimesso. Vedete. Vedete. e trovare il punto giusto. Una volta trovato il punto giusto, si infila senza alcun problema. Poi lo rigiriamo e andremo a infilare il pistone di recupero, prima la testa all'interno. Dopodiché lo andiamo a rivincolare all'interno, nella parte che vi avevo fatto vedere prima, lo scasso, che dove viene via ovviamente va anche rimesso. Vedete la sua azione, quindi è messo nel punto giusto. Ora, la molla, come prima essendo un elemento che rimane in tensione, bisogna prestarci un attimo di cautela, deve essere infilata in questo modo, vedete il braccio come fa. Come prima, alziamo l'elevatore dei colpi, andiamo a infilare la molla dentro. E' un pezzo che fa un po' di fatica, proprio per la sua tensione. Ok, una volta inserita all'interno, come prima, vedete qua il piulino è a posto. A questo punto possiamo rimettere la calciatura. Ok, una volta infilata la calciatura, si rimette il blocchetto di scatto. Il blocchetto di scatto viene rinserito. A mano tranquillamente si rimette dentro. Ed è a posto. Vado a rimettere anche a suo posto la cinghia. e l'arma è di nuovo completamente assemblata e pronta ad uso. Spero che come sempre il video vi sia stato utile. Se ci sono domande e quesiti potete scrivere tranquillamente. Questo è quanto per quanto riguarda il Garand. Ovviamente spero, come già detto, che vi sia piaciuto e vi auguro un buon divertimento con le vostre armi. e ci rivediamo al prossimo video. ci rivediamo all'appoints Ci rivediamo al prossimo video! Ciao! Ciao!